Sono 502 i nuovi positivi in provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore. Il report della ASL Toscana Sud-Est dà un po' di respiro sotto il profilo dei nuovi contagi. Il totale dei tamponi effettuati è 4139, un numero elevatissimo. In tutta la nostra ASL i nuovi positivi sono 1188 i guariti. Per fortuna li superano, sono 1266, di cui 536 in provincia di Arezzo. In bolla Covid al San Donato di Arezzo ci sono 44 persone ricoverate, 35 non sono vaccinate. In terapia intensiva Covid ci sono 6 persone ricoverate, 4 di loro non sono vaccinate. Le vere note dolenti in questo momento sono le quarantene, moltissime le persone che si trovano in isolamento e attendono il risultato del loro tampone molecolare, alcuni anche da oltre tre giorni. Molti si chiedono infatti se sia alla fine, dopo tutto questo tempo, un risultato ancora valido. La ASL risponde che il 6 gennaio scorso c'è stato un sovraccarico, oltre 3800 i tamponi da processare e purtroppo anche il guasto di un macchinario. I tempi si sono quindi allungati e di parecchio. Solo nelle scorse ore è terminato il processamento dei tamponi del giorno dell'Epifania e ci vorranno alcuni giorni ancora per tornare in pari. Intanto sui social infiamma la polemica e la domanda è sempre quella. Ma tutto questo non poteva essere previsto?